Azzurri in vantaggio all'undicesimo, Marchesan stende Ludi e Nasca concede ai padroni di casa il rigore che Motta trasforma, segnando il suo settimo gol in campionato, secondo consecutivo. Al ventisesimo della ripresa arriva però il capolavoro di Nunzio Di Roberto, che si inventa un'azione personale strepitosa e dopo uno slalom gigante supera Ulcani con un sinistro terrificante. Gol meraviglioso per l'attaccante scuola Napoli che ammutolisce il Piola, la squadra di Tesser riesce a tornare in vantaggio grazie a Parola, arrivato nel mercato.